Benvenuti al nuovo appuntamento del TgWebLease del Consiglio regionale della Basilicata. Il disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 della regione è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale. Le previsioni definitive di competenza delle entrate e delle spese è pari a circa 4 miliardi di euro. Con il provvedimento legislativo sono state recepite anche le misure correttive della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, riferite alle eccezioni sollevate sui fondi di accantonamento. Soddisfazione per la nomina dei ministri Lamorgese e Speranza e dei sottosegretari Margiotta e Liuzzi. Ad esprimerla, Piro, ai neoeletti, quattro figure di altissimo profilo che vanno a rappresentare la Basilicata, il consigliere ha rivolto gli auguri di buon lavoro ed ha formulato l'auspicio che con un lavoro di squadra si possa rendere protagonista la regione. Salutiamo questa notizia con grande piacere e con l'auspicio che sia solo il primo atto di un nuovo corso più premiante per i cittadini lucani e per le eccellenze regionali. E il commento di Puelese alla decisione del ministro per i beni culturali Franceschini di sospendere l'attuazione del provvedimento dell'ex ministro Bonisoli che accorpava il polo museale della Basilicata a quello della Puglia. Valutazione positiva sulla sospensione con efficacia immediata della riforma BIPAC anche per quarto. Non bastevole però a suo parere. Il provvedimento va rinnovato in tempi brevi, scrive in una lettera inviata Franceschini, in modo da continuare a garantire ai cittadini lucani e a tutte le istituzioni culturali presenti sul territorio la piena autonomia culturale. Chiediamo al presidente della Giunta Bardi e all'assessore all'ambiente Rosa che si faccia estrema chiarezza su quello che sta accadendo in questi giorni al Cova di Vigiano. Nell'annunciare un'interrogazione, Leggeri sottolinea che la tutela della salute e la trasparenza non sono in vendita. La salute, afferma, viene prima di tutto. I cittadini e i lavoratori della Valdagri vanno tutelati. Noi, nella scorsa legislatura, siamo arrivati a chiudere il Cova per un periodo molto lungo, pur di garantire la salute dei cittadini e dell'ambiente. Adesso siamo curiosi di capire cosa faranno Rosa e Bardi per comprendere cosa sta avvenendo al centro Olieni di Vigiano, dove da alcuni giorni si stanno verificando fiammate anomale. Così il consigliere Polese, che annuncia la presentazione di una interrogazione insieme a Cifarelli, Pittella, Braia e Tre Rotola. Viziello commenta i dati sulla carenza di organico delle cosiddette sedi disagiate dei distretti giudiziari pubblicati da Il Fatto Quotidiano, invitando a riflettere sui numeri che riguardano la Basilicata. A Potenza vi è una scopertura di giudici del 24% rispetto alla dotazione prevista e del 54% per quanto riguarda i pubblici ministeri. Se non si verifica la paralisi delle attività, afferma, è solo grazie allo spirito di sacrificio di magistrati e personale amministrativo. Il presidente del Consiglio, Cicala, ha la ripresa dei lavori consigliari in un messaggio letto prima dell'inizio della seduta, rivolgendosi ai consiglieri, ha fatto riferimento alla carica di entusiasmo e di responsabilità che deve accompagnare l'agire politico e ha donato a tutti i consiglieri la spilla con lo stemma della Regione Basilicata. Diventare consapevoli nel nostro ruolo ci permetterà di capire l'unicità delle scelte che dobbiamo avere il coraggio di fare per il bene di tutti i lucani. È tutto, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento e per la prossima edizione.